Sono 96 nuovi casi di positività al covid riscontrati in provincia di Agrigento su 420 tamponi effettuati, 19 i guariti, 4 i nuovi ricoveri, un decesso avvenuto a Porta Empedocle che porta a 256 il totale delle vittime nell'Agrigentino dall'inizio della pandemia. Questi i numeri dell'ultimo bollettino diffuso dall'ASPE di Agrigento che fa riferimento alla giornata di ieri. Resta invariata la situazione dei contagi a Caltabellotta dove non ci sono stati né nuovi casi né guarigioni nelle ultime 24 ore e i positivi al covid sono 85. Invariata la situazione anche a Sciacca con 31 casi, Ribera con 7 e Sambuca di Sicilia con 6. Peggiora invece la situazione a Favara dove ieri ci sono stati altri 27 contagi per un totale adesso di 275 persone attualmente positive. Un altro aumento considerevole di contagi si registra nel comune di Canicattì con venti nuovi casi in un solo giorno che hanno portato a 72 il totale dei contagiati. In crescita anche i numeri di Agrigento con 109, Porta Empedocle 96, Racalmuto con 7 nuovi casi per un totale adesso di 10 e Raffadali con 42. 10 positivi ad Alessandria della Rocca, 14 ad Aragona, 1 a Bivona, 2 a Burgio, 4 a Camastra, 35 a Cammarata, 19 a Campobello di Licata, 6 a Casteltermini, 1 a Castrofilippo, Cianciana, Comitini e Grotte, 11 a Ioppolo Giancaxio, 30 a Licata, 2 a Luccasicula, 6 a Menfi, 1 caso a Montallegro e Montevago, 25 a Naro, 80 a Palma di Montechiaro, 25 a Ravanusa, 14 a Real Monte, 1 a San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro e Sant'Elisabetta, 40 a San Giovanni Gemini, 7 a Santo Stefano Quisquine e 36 a Siculiana. Sono solo 3 i comuni Covid-free in provincia, Calamonaci, Cattolica Eraclea e Villa Franca Sicula. In ospedale ci sono 3 pazienti ricoverati in regime ordinario al San Giovanni di Dio di Agrigento e 22 al Fratelli Parlapiano di Ribera, dove ci sono anche due persone in terapia intensiva, 3 infine le persone ricoverate al Covid-hotel di Sciacca.